Io partirei proprio da lei e le chiederei cos'è cambiato in questi sei mesi di presidenza italiana a livello europeo perché molte erano state le aspettative, un leader giovane, un leader che si era proposto per cambiare la logica dell'Europa, per aprire la flessibilità, la crescita. Qualche spiraglio, qualche novità l'abbiamo vista, il suo giudizio? Sì, c'è qualche spiraglio di cambiamento soprattutto in virtù dell'insediamento però della nuova Commissione. Quindi non so se ascriverlo esattamente al semestre italiano, al semestre europeo che si sta concludendo adesso. C'è da dire una cosa preliminare, che durante i semestri europei solitamente non succede niente e questo è quello che mi sembra che più o meno sia successo anche in questo semestre europeo. Ovvero sia le aspettative che questo genera ogni volta perché è una ruota che passa una volta ogni tanto perché ci sono tanti paesi in Europa e quindi solo raramente si è a capo dell'Europa per un semestre, di fatto non corrisponde alle possibilità di risultati che si possono ottenere in questo semestre. Quindi questo va detto per dire che se oggi ci sembra di avere un carniere un po' vuoto non dipende solo dal fatto che il Governo non ha fatto quello che doveva fare. Dall'altro lato c'è però un risultato che è quello che è arrivato in questo semestre, non so bene di chi sia il merito, forse un po' di tutta l'Europa nel suo complesso, di aver cominciato a muovere qualche passo un po' più lontano da un rigore eccessivo e simultaneo che è stato responsabile di una recessione peggiore di quella che poteva esserci nel 2011-2012 quando c'è stata la crisi dell'euro e questo vuol dire che sostanzialmente si è cominciato a guardare ai bilanci dei paesi la qualcosa che ha sottolineato proprio Juncker in un modo che prevede un monitoraggio di tutti, non più un sistema troica ma un monitoraggio di Bruxelles nei confronti dei paesi che potenzialmente potrebbero avere un bilancio fuori linea diciamo così rispetto alle regole europee con l'idea di ottenere un risultato nel corso del tempo. Questo mi sembra una cosa sensata anche perché applicare la regola del 3% che porterebbe addirittura a multare paesi che sono già in difficoltà con il loro bilancio è una regola che noi chiamiamo prociclica, cioè un paese va male, non riesce a far quadrare i conti e in più viene anche multato per questo peggiorando ulteriormente i propri conti. Quello a cui si deve guardare invece è il bilancio strutturale, il deficit che deve essere verso lo zero e che però insomma non vuol dire pareggiare il bilancio in tutti gli anni. Li prendiamo tra pochissimo tutti questi temi li prendiamo tra pochissimo. Per gli investimenti pubblici invece mi sembra che si sia cominciato ma non si sia andati tanto lontano ecco con il cosiddetto piano Juncker. Daveri la Francia è anche l'esempio di quelle forze di politica anti-europee che si sono affermate Marine Le Pen già citata e forse è proprio perché la situazione è più drammatica in Francia che tutta l'Europa si è risvegliata ed è nato questo piano Juncker. Intanto se io le chiedessi di quanti miliardi è composto il piano Juncker lei direbbe 315 o 21? Perché gli ottimisti dicono siamo già a 315, i realisti dicono che sono 21 quelli veri. Ma insomma in macroeconomia noi insegniamo sempre il ruolo dei moltiplicatori per far vedere che l'effetto di una decisione di politica economica sul PIL in realtà è spesso più grande di qualche ammontare e però siamo sempre molto divisi noi naturalmente gli economisti quasi per professione diciamo sono divisi ci sono anche barzellette al riguardo però nel caso di Juncker in particolare il moltiplicatore che viene calcolato tra i soldi che effettivamente dovrebbero esserci che poi tra l'altro sono per 8 miliardi garanzie, per 8 miliardi è liquidità e poi per 5 miliardi sono quelli che vengono da Banca Europea per gli investimenti quindi i soldi freschi non sono poi tanti per riuscire a diventare 315 dovrebbero moltiplicarsi per 15 che è un moltiplicatore molto ottimistico e che prevede una collaborazione da parte dei privati che è ancora tutta da capire in che forme possa avvenire perché richiede modifiche regolatorie modifiche diciamo decisioni da prendere in merito agli appalti perché penso all'Italia per esempio come da noi un investimento pubblico possa tradursi in un aumento del PIL al contrario di quello che è successo in passato che ha significato invece soprattutto fenomeni dilaganti di corruzione e che hanno portato a redditi da tutte le parti ma non a maggiore crescita vera del paese. Quindi questo credo che sia il macigno contro cui si scontra al momento il piano Juncker e quindi direi che è più 21 che 315 ecco la cifra che ho in mente quindi non è da lì che verrà credo la crescita aggiuntiva economica dell'Europa. Detto questo però è pur vero che pensando alla Francia pensando alla Grecia la difficoltà attuale che ha l'Europa è che la democrazia si coniuga con il fiscal compact solo se riesce a ripartire la crescita economica. Altrimenti il rischio del successo dei movimenti anti-Euro ma poi io direi anche anti-Europa perché per quanto mi riguarda l'Euro è l'Europa, le istituzioni dell'Euro sono ciò che di sicuro abbiamo in Europa. Se ci viene a mancare l'ancora dell'Euro e delle istituzioni costruite intorno all'Euro credo che purtroppo avremo anche la fine del mercato unico europeo. Questo è quello che io personalmente temo come la cosa più grave che potrebbe verificarsi. Da questo punto di vista quindi diventa anche un po' difficile riuscire a pensare a un Euro Nord, Euro Sud o comunque a due differenti velocità di unione monetaria. Senta Professor Daveri, la novità di ieri che noi dobbiamo sempre un po' tradurre non tanto dalle lingue con i quali escono i comunicati dei vertici europei ma dal linguaggio burocratico è quella sulla flessibilità. Ora se abbiamo ben capito flessibilità che è il risultato sul quale si è concordato ieri riguarderebbe solo gli investimenti pubblici all'interno del fondo per il piano Juncker, cioè quanto mette lo Stato italiano per compartecipare alle spese europee, non gli altri investimenti pubblici. Renzi ha commentato un piccolo passo per l'Italia, un grande passo per l'Europa, come a dire si è aperta la strada della flessibilità. Siamo arrivati sulla Luna? Sì, forse. Sicuramente quello che è stato fatto è stato un pezzetto della cosa, però il fatto di scorporare gli investimenti pubblici nazionali dal computo di Maastricht o insomma del fiscal compact, siamo ancora invece lontani dall'avere il consenso tedesco al riguardo. Ma a riguardo la Germania quello che potrebbe fare per la crescita europea è anziché questo punto, perché io ho un po' di dubbi sull'efficacia ai fini della crescita degli investimenti pubblici e in opere pubbliche, la Germania potrebbe fare molto di più spendendo di più, cioè adottando politiche fiscali più espansive al proprio interno, dato che allo zero di deficit pubblico potrebbe spingersi un po' più su e quindi rilanciare i propri consumi e investimenti interni. Soprattutto gli investimenti anche in generale allanguano a livelli che non si erano visti da tanto tempo e questo aiuterebbe a crescere la Francia, l'Italia, la Grecia e la Spagna. Volevo sapere dal professor Daverri se è d'accordo con Claudia che abbiamo, politica italiana, introiettato questo concetto di riforme da fare finalmente. Ma mi sembra che in effetti sia una strada obbligata a questo punto anche per la politica che ha capito che esistono da un lato dei vincoli esterni, credo un po' di più, che però non sono più dei vincoli esterni da prendere come il capro espiatorio, ovvero sia l'Europa matrigna. Se l'Europa riesce ad andare avanti a fare i passi che sono stati per ora solo timidamente accennati in questi ultimi mesi, non sarà più l'Europa matrigna, sarà un'Europa all'interno della quale ci si siede intorno a un tavolo e si valutano insieme gli squilibri esistenti che sono in alcuni casi relativi al settore pubblico e vuol dire spesso paesi indebitati eccessivamente e dall'altro lato però anche magari paesi che di fatto consumano troppo poco e che esportano tanto, come ad esempio il caso della Germania, anche se c'è da dire che l'avanzo tedesco è diminuito nel corso del tempo proprio a causa del fatto che il resto dell'Europa non cresce più, insomma quindi anche questo è una cosa da considerare. Però sono tutti gli squilibri quelli che vanno valutati, naturalmente c'è squilibrio e squilibrio, però da questo punto di vista insomma mi sembra che se l'Europa evolve in questa direzione, anche se non ci porta tanto denaro fresco attraverso il piano Juncker o le sue eventuali riformulazioni, sarà un'Europa che è più facile accettare, che può trovare maggiore consenso nei cittadini. Dall'altro lato quindi la politica capirà un po' meglio che le riforme che si devono fare e l'ha già un po' capito credo, ma potrebbe capirlo ancora meglio, sono per i nostri figli e nipoti, non sono per l'Europa perché un paese non sta in piedi con un debito pubblico del 135%, con una giustizia che non decide, che non produce risultati per i propri cittadini e per una legge del lavoro che si capisce poco e che genera solo dei lavori di serie B anziché i lavori di serie A di cui avremmo bisogno per poter avere di nuovo mutui e credito.